Era il 30 agosto del 2022 quando Nereo Agnolucci perse la vita in un terribile incidente lungo il raccordo autostradale, a pochi metri di distanza dall'incrocio per San Zeno e San Giuliano. Uno schianto fatale tra un'ape guidata dall'81enne ed una moto in sella alla quale c'era un 19enne. Ad un anno e mezzo di distanza, il giovane Centauro è stato assolto con formula piena a pronunciare il dispositivo, il giudice per l'udienza preliminare Claudio Lara. Per il ragazzo, rimasto anche lui gravemente ferito nell'incidente, scattò l'accusa di omicidio stradale. Secondo la procura, il giovane avrebbe percorso quel tratto ad una velocità troppo sostenuta, il limite all'epoca era di 60 km orari. La difesa presentò una controperizia. Il giudice adesso ha accolto la tesi difensiva, secondo la quale il motocarro sarebbe comparso improvvisamente dall'incrocio. Da qui la conclusione del procedimento giudiziario con la soluzione perché il fatto non sussiste. Grazie. Grazie.